Il mio film è un piacere e un onore poter contribuire in questo modo al progetto del film. Grazie, grazie veramente e grazie per il vostro apporto, il vostro patronage e la collaborazione che ci date sempre per noi preziosissima. Allora, a te il compito di leggere il nome di questo film e il nome e cognome della... Poco complesso, sono poco complesso, sono poco complesso. Chi è il vincitore di questa? Il mio film è Babysitter, Caroline France di Monia Ciocchi. Ciocchi, perfetto. Allora, Babysitter è il vincitore del nostro festival, il mio collega dell'edizione Gordina 19. Sentiamo la motivazione. A Babysitter per la sua originalità, per aver saputo provocare attraverso un'ironia cruda e politicamente scorretta. Una messiscena straordinaria dei dialoghi incredibili, per il modo coraggioso con cui la regista scelte di raccontare la misoginia e la potenza con cui riesce ad arrivare allo spettatore. Se ti è piaciuto il video che hai appena visto, metti un like e iscriviti al canale. Grazie. 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 Grazie.